ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su out of space un gioco che ricorda molto overcooked ma nello spazio dove dovremo diciamo pulire un appartamento su un'astronave ma non sono solo oggi perché il gioco è giocabile in cooperativa sono ancora in compagnia di luca ciao a tutti che spero di aver equalizzato in modo migliore dell'ultima volta abbiamo fatto il gioco sull'esorcismo un po su keep talking and nobody explodes e su cuphead gran successo del grande successo assolutamente allora iniziamo a giocare in due allora devi premere il tasto start perfetto indie gameplay 1 indie gameplay 2 all'interno della dell'astronave dovremmo abbattere i mostri ma contestualmente riposarci quando ne avremo bisogno e lavarci quando ci sporcheremo insomma diventa diventa il scopo è pulire illuminare tutte le stanze esatto lo scopo è quello quindi cercheremo di farcela allora praticamente essere ricordarmi e tra l'altro sono dimenticato di dire infatti la prima partita va un po così per questo dobbiamo montare all'interno i vari elettrodomestici quindi vedete qua che io sto montando la riciclatore se riesco a montarlo perfetto lo monto si lo monto ok e tu cosa stai cercando a nodri mettere la cella di energia lì e eccoci qua ok capire come fare a montarlo ok ok questa è la serra in pratica allora in pratica cosa serve il riciclatore il riciclatore serve quando vogliamo buttare via qualcosa e lo buttiamo qua dentro tu invece hai l'acqua al momento non avendo una doccia non avendo un rubinetto dobbiamo uscire tutte le volte all'esterno riempirlo e andare poi a pulire dove c'è la melma adesso io vado ad aprire il cancello qui e con la scopa vado a pulire la melma una volta pulita dobbiamo essere rapidi e trovare una cella di energia devi buttare l'acqua qua perché non riusciamo a pulire con questa fantastica mira si no vedo che in effetti allora ci sono c'è un elettrodomestico quad a montare che è un mix generatore io lo monto qua c'è anche la spazzatura da buttare ok sai che cosa potremmo fare questo qua un mix manca l'energia però mi chiedo che ce frega qua ok la serra genera una zucca che andiamo a quando abbiamo fame perché se non abbiamo fame mi sa che poi moriamo e dobbiamo aspettare il tempo di respawn quindi bisogna mangiare bisogna dormire infatti adesso dobbiamo dormire probabilmente non abbiamo un letto per poterlo fare quindi dobbiamo stare stare qua io potrei mangia tu adesso io intanto tolgo la cella che al momento abbiamo mangiato quindi non abbiamo bisogno la metto qui così possiamo andare ad alimentare il mixer che non ho una vaga idea di che cosa serva però lo scopriremo breve intanto tu stai riempendo l'acqua magari pulisci anche la stanza di qua di là di là dai va bene ok una volta pulita possiamo tirare la leva e aprire quindi in questo caso ok hai steso il mostro io lo prendo e lo porto al riciclatore la cosa più fastidiosa è che se avete in mano qualcosa dovete buttarlo per tirare la leva ok tu dai segni di stanchezza sono svenuto ok questo momento acqua ci sono dei ritratti di famiglia che me frega nanna c'è infatti lo monto a parete e vabbè il drone lo monta per conto mio cos'altro abbiamo qua altri elettrodomestici da montare e spero il letto perché ne avrei bisogno il il divano ok perfetto il divano non serve avere una presa elettrica quindi lo montiamo qui quindi sarà un ostacolo per uscire però potremmo andare a dormire tu intanto continua pure pulire finché non avremo pulito completamente la stanza i mostri continueranno a generarsi ok dai tu tu intanto lavora anche ok bravo bravo ci penso io è il problema che hanno funziona anche senza energia perfetto non ha bisogno di una presa elettrica perché va ma novella qui vediamo che sta nascendo un mostro sì 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 infatti butta l'acqua sul no mannaggia dai vado a che poi finisce c'è un timer stanno tornando mostri anche nella zona di là vedo adesso sulla porta a ti ricordi che abbiamo anche il catalogo e possiamo ordinare le cose più facciamo soldi quindi adesso io non voglio dire però ok vorrei capire ok questo vedete con il tasto y possiamo andare a comprare un'altra batteria la compro perché sennò quindi noi più mostri uccidiamo più demoliamo roba più facciamo cose più guadagniamo soldi compriamo gli oggetti e comprando appunto guadagniamo soldi compriamo gli oggetti e con gli oggetti possiamo andare a semplificarci la vita io mi sa che devo mangiare perché tra un po morirò allora io ho ordinato è arrivato il pacco abbiamo due stanze che sono ordinati nella zona di là ok dai vado a stenderli ma e se buttassimo nel mixer uno di questi cosi qui ok infatti produce acqua si bella scoperta dai bravo 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 ok abbiamo alimentato due stanze apriamo la terza ok andiamo puliamo allora io li stendo tu li butti via ok speriamo di ritrovare ok tieni tieni butta butta una cyclette cosa me ne faccio di una cyclette vabbè puliamo qua e andiamo a energizzare la cosa adesso io butto via è tornato un mostro lì serve la scopa per ucciderlo avevamo alimentato sta stanza e sono tornati vabbè io io intanto vado a dormire tu non dormi mai va beh allora ordino un'altra batteria guarda abbiamo la quarantena spray protegge le storie domestici roommates da sporco temporanea ok no compro una batteria perché ne abbiamo bisogno ok ho fame vado a mangiare la zucca ok adesso arriva la batteria eccola che sta arrivando tra pochissimo e qui è divertente giocato in gruppo si può giocare fino in quattro ed è anche piuttosto originale come gioco che non è il classico cucina e dopo aspetta che arrivo a farti ma perché scusa ah l'acqua adesso devo no non ce la faremo mai devo l'acqua devo usarla per bagnare la zucca e poi devo andare a pulire di là possiamo comprare un'altra scopa perché credo che ci sia utile nell'uccisione di questi mostri no però c'è un cane eccola la scopa costa 35 quindi dobbiamo darci un po da fare adesso per aia sono diventato un mostro momentaneamente è tutto normale insomma ma la scopa dove ero andato a recuperarla ma credo che farai anche io sono un pozzo vabbè insomma non ho mai preteso di essere un mago ai giochi ai videogiochi ma in questo caso è veramente oltaggioso il risultato assolutamente ci riproviamo di nuovo per l'ultima volta però insomma la meccanica l'abbiamo spiegata bisogna liberare il gioco sembra anche semplice ma non è così semplice in realtà no dovremmo organizzarci meglio perché qua ognuno fa quello che vuole quindi non lo so allora riciclatore partiamo già con acquisti diversi da prima mi sbaglio perché hai buttato l'acqua lì ho pulito anche la porta ok dai facciamo facciamo veloce questo cos'è l'orto di zucche lo monto qua va montato collegato a una stazione alimentata va bene apri la porta tua per la porta io tutto questo subito direttamente così ok perfetto pulisca l'arresto io vado già riempire magari sa che dell'acqua lo mollo si può mollare senza buttarlo mi sa di no si può mollare si ok no 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 ok pulisci anche di qua io intanto vado e compro già una batteria no non si può ok 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 abbiamo pulito anche la porta qui perfetto pulito la spazzatura dobbiamo buttare così almeno otteniamo soldi la cicletta mettila che non so cosa serve ma lo scopriremo allora abbiamo soldi vado ordino la batteria ok a breve arriva la vedi in alto a sinistra il livello della batteria perfetto molto bene e abbiamo la routine sono svenuto ci serve il divano dobbiamo trovare il divano intanto vado prendo la batteria la metto qua voglio capire cosa fa la cicletta cioè abbiamo un bisogno fisico o guadagniamo soldi facendolo no si guadagniamo soldi ok figo figo uno si mette la cicletta no ho bisogno di un divano però tu sei morto e sono attualmente morto ma non ho ripreso perfetto allora apri qua aprimi aprimi subito è chi fa da sé ok pronti a ordinare un'altra batteria appena possiamo aspetta aspetta lavandino lavandino lo metterà per lavarci nel caso ci contaminiamo sì 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 presumo di sì dobbiamo far soldi tanti soldi maggio e serve un divano lo ripeterò fino allora intanto voglio dare un'occhiata mannaggia non si passa di qua va smontato questo niente è ok o qui ci sono diversi pacchi ok vado a prendere il l'acqua dice che possiamo riempire anche devo metterlo in modo più tattico il vabbè io pulisco qua intanto ok che pacchi ci sono scaffale montalo lì lo scaffale chi se ne frega cioè il divano il divano il divano lo monto qui in mezzo il lavandino conveniva sì sì salvo di qua in modo tale che l'acqua ora di un'altra batteria così almeno mettiamo in sicurezza un'altra porta ho lasciato dentro il scopo secchio secchio posso attenzione che stanno nascendo dalla porta in alto sì infatti ok arrivata la batteria cosa c'è da pulire qui aspetta scusami ma ti frego questo allora allora vieni giù ok alimentato vado a fare una dormita perché sono un po al limite sì quel lavandino lì andrebbe spostato comunque va beh è pulito lì le porte no no infatti infatti però il lavandino è comodo lì allora abbiamo avuto solo fortuna una gran fortuna ci serve fare i soldi quindi entro con la scopa viene darmi supporto butta via tutto nella spazzatura questa gente qui che poi è brutta detta così però io pulisco mi serve un secchiello d'acqua poi svenire ancora questo perché credo si stia riprendendo ottimo ordiniamo la batteria ma mi riempie ordino la batteria occhio quando arriva che la piazziamo subito e poi ci manca una stanza ancora credo ok che oggetti abbiamo scaffale lo scaffale questo lampada chi se ne frega la lampada guarda 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 qua dobbiamo alimentare sta stanza prima possibile vado fortunatamente la base non è grande riusciamo a restare sullo schermo entrambi allora aspetta che alimento qui perfetto e manca di alimentare questa butta via tutta via tutto perfetto e non abbiamo soldi però chi è che no vado a riposare tu hai mai dormito ho dormito dormito ok no non è finita guarda quante stanze ci mancano di là vado vado devo andare a dormire anch'io vabbè io va intanto vado avanti ad ora di qua vado a pulire ola quanta gente qua c'è tanta roba da passare alla mazza vabbè butto via un po di gente e facciamo anche una bar un'altra batteria ma la batteria ce ne servono almeno due quindi ci servono almeno 60 monete tac scusi perdoni vada vada credo di dover mangiare ok qua abbiamo un elettrodomestico che è una pianta ornamentale ma non per le palle ok questo cos'è una lampada molto interessante però la lampada non mi interessa vado a dormire e no ci mancano sei monete per fare la lampada vabbè finisci di la perfetto perfetto ah entravano da lì entravano da lì allora dovremmo essere tranquilli adesso ci basta solo pulire quella quell'ultima cosa lì quell'ultimo bozzo e alimentare la stanza e ne abbiamo ancora un paio da alimentare allora ordino la batteria e poi vai a prenderla che alimentiamo quella lì è la stanza dove c'è tipo la la presa d'aria quindi penso che vada alimentata quella allora insomma riassumendo che cosa bisogna fare nel gioco bisogna diciamo alimentare le stanze credo che sia lo scopo ultimo c'è ancora una porta qua è che avevamo già aperto ma dobbiamo alimentarla come li facciamo i soldi per quella andando sulla ciclè ah bravo bravo perché entravano da lì ok allora dobbiamo prima di tutto far fronte alle nostre necessità quindi mangiare e dormire seconda cosa bisogna alimentare le stanze perché l'alimentazione ci consente di produrre cibo di demolire le cose di attivare i vari macchinari e poi dobbiamo pulire la stanza con la scopa e con l'acqua e la no basta basta fermi fermi produzione che abbiamo soldi a sufficienza ci manca una batteria e basta credo perché poi abbiamo alimentato tutto sì scusi e poi contemporaneamente possiamo andare anche vedete quanti oggetti ci sono guarda quanti outlet extension orto di zucca riciclatore doccia cicletta macaro onde trasforma zucca e alieni in buon cibo ah ma c'è un'infinità di roba qua da fare e def vabbè non arriva alla magari alla dinamicità di overcooked ma non scherza nemmeno questo no 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 assolutamente vado alle 9 minuti di partita 150 stanze pulite 6 numero di giocatori 2 molto bravi siamo ma non è ancora un bel posto è un altro obiettivo una volta che abbiamo fatto 8 partite sbloccheremo anche quello al momento abbiamo sbloccato il lavandino questo nella prossima partita partiremo con quei bonus quindi quei soldi rimasti e il lavandino scopriremo subito allora affronta la partita è interessante capire anche quello ah sono cambiati anche i personaggi nel mente ah ok ok poi si comincia si fa la dimensione si può scegliere la dimensione c'è all'inizio della partita un tutorial che ci spiega come funziona ma a dire la verità che io ricordi non ci spiega proprio moltissimo no non spiega praticamente nulla se non proprio il fatto che tu devi attivare le stanze quella è l'unica cosa che spiega niente abbiamo avuto successo incredibilmente ce l'abbiamo fatto su capperde l'abbiamo prese nell'esorcismo l'abbiamo prese le prime partite che abbiamo giocato che poi purtroppo qua non si vedono mai meglio così credeteci e abbiamo vinto quindi sono contento ottimo lavoro ottimo e fateci sapere cosa ne pensate di out of space giocato in cooperativa locale a quanto pare è possibile giocarlo anche online in cooperativa matchmaking fateci sapere e alla prossima e ciao 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 a tutti ciao 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 ciao